Preghiera del mattino Divino Spirito del Padre Eterno e di Gesù, Suo Figlio Unigenito, innalzato in nome nostro alla Sua destra gloriosa, noi imploriamo la Tua misericordia. Celebriamo il momento in cui Ti sei manifestato nella Tua potenza più grande, quando hai formato nel grembo di una giovane donna, Dio fatto uomo, il Verbo fatto carne. Amen. Amen.